Un'amministrazione che si è portata dietro tante aspettative e che sta operando pur tra mille difficoltà legate alla riduzione dei finanziamenti e alla carenza di personale. Così il capogruppo del PD Simone Di Paola nel corso della nuova puntata dell'ospite che andrà in onda oggi in coda al telegiornale. Sulla contrapposizione politica Simone Di Paola respinge l'accusa di un'amministrazione chiusa al dialogo e al confronto con l'opposizione. Io non ho mai visto questo sindaco e questa maggioranza chiusi al confronto o al dialogo. Certo se tu non perdi occasione per poterla portare sul piano della contrapposizione quasi personale, muscolare. Io come lei sa svolgo la funzione di consigliere comunale dal 2009, ho attraversato tre consigliature, ma uno scontro così muscolare, così virulento, così molto spesso personale. Io francamente faccio fatica a ricordarlo. Noi abbiamo una responsabilità, decidere cosa dobbiamo farne di questa consigliatura. Se dobbiamo far sì che questa consigliatura produca qualcosa... Cosa dobbiamo farne di questa consigliatura, posto che anche all'interno della maggioranza qualcuno ha iniziato a parlare di larghe intese, di necessità di mettere fine a questo clima di scontro continuo. Lei come la vede questa ipotesi di larghe intese che non mi pare poi abbia ricevuto grande sostegno nelle altre forze di maggioranza? L'ha lanciato il consigliere Isabella, non mi pare che dal PD siano arrivate segnali, almeno non finora, di condivisione. Ma guardi, a me personalmente il termine larghe intese non è mai piaciuto, perché mi dà la sensazione dell'inciucio, della spartizione delle poltrone. Francamente è e deve essere lontano anni luce dal nostro sentire comune, come forse politiche, che siano esse di maggioranza o di opposizione hanno in mano le sorti di questa città. Io penso che l'invito del collega Isabella fosse più alto e più nobile, e cioè quello di provare a costruire un tavolo di confronto politico, senza distinzioni di ruoli, attenendoci al merito delle emergenze sociali, economiche, produttive. Anche sulla vicenda dell'assessorato al turismo legata alle dimissioni di Mario Tulone, Simone Di Paola evidenzia come la scelta di Sino Caracappa sia una chiara dimostrazione di apertura da parte di questa maggioranza. La nomina di Sino Caracappa debba essere salutata, così come lo fu quella di Mario Tulone, come un importante segnale di apertura a segmenti sociali, a pezzi di città, che notoriamente alle ultime elezioni amministrative non hanno sostenuto la proposta politica di Francesca Valenti e del centrosinistra. Per dire che noi vogliamo aprire un dialogo, vogliamo confrontarci con porzioni di città che vogliamo recuperare.